La Rona ce l'ha fatta al terzo match point, ha centrato quel punto fatidico che le mancava per salire matematicamente nel campionato di eccellenza. Finisce 0-0 con l'Accademia di Borgomanero, ma attenzione, tante tante emozioni, compreso un calcio di rigore che la Rona ha fallito al 39esimo del primo tempo. Vediamo le azioni salienti. Diciottesimo minuto, tiro di Petrone centrale, parata di Mafezzoni. Al 26esimo, tiro di Petrone attraversa tutto lo specchio della porta, ma non trova nessun compagno per la deviazione vincente. Al 37esimo, Mafezzoni antecipa Lippari a due passi dalla linea bianca. Al 37esimo, calcio di rigore per l'atteramento di Lippari da parte di Fontaneto. Vergadoro dagli 11 metri, tiro centrale, rispinge Mafezzoni, che poi intercetta Bergantin, che aveva tentato la ribattuta, ma nulla di fatto respinge anche questo il portiere Mafezzoni. Al primo minuto di recupero del primo tempo, Cavadini, grande parata su colpo di testa ravvicinatissimo di Poletti, veramente una grande parata da parte del numero uno della Rona. Al terzo minuto della ripresa c'è un gran tiro di Lippari, grande parata ancora di Mafezzoni, che devia in angolo. Al decimo c'è un tiro di Lippari a fil di palo esterno della rete. Al 26esimo, punizione di Petrone di poca alta sopra la traversa. Finisce 0-0, ma grande entusiasmo in campo da parte dei giocatori della Rona per questa promozione guadagnata con 90 minuti di anticipo. E soprattutto grande entusiasmo sugli spalti. E hanno indossato i giocatori la maglia bianca con la scritta, i campioni siamo noi. Grazie.